E tu, ci ha stupito il coraggio con cui fida giovane tu hai sempre preso posizione nei confronti del razzismo in particolare a 18 anni quando già talentuoso ma non ancora affermato e dopo solo tre apparizioni con il Real il presidente Perez aveva proposto di scambiarti con un altro giocatore del deportivo pur sapendo che quella società e quei tifosi non ti amassero puoi raccontarci come a soli 18 anni hai vissuto quella vicenda? A me quella parola scambio proprio non piace, non sono uno schiavo e per questo motivo mi sono impuntato e ho deciso di andare al Mallorca dove poi sono rimasto 5 anni ho sempre pensato che un giocatore di calcio debba far valere i propri diritti e la propria volontà e in quel momento della mia carriera pur correndo dei rischi ho deciso di essere determinante nelle scelte che avrebbero condizionato il mio futuro Come sei riuscito a far valere la tua posizione? Ero nel Real Madrid, il mio sogno era già realtà e l'unica cosa di cui avevo bisogno era di giocare perché sapevo già che cosa significava giocare a calcio ma lo spazio nei Galacticos era poco e non mi facevano giocare ci fu un momento in cui la società mi impose di andare in un altro club quello che più mi infastidì è che è molto comune nel nostro mondo e che la società pretese di prendere questa decisione senza sapere cosa ne pensassi, senza sapere cosa io volessi mi dissero semplicemente o vari o niente e allora io rifiutai pur sapendo che rischiavo di essere escluso disse al presidente vado solo al Mallorca se il Real Madrid non vuole darmi opportunità e mi misi a difendere ciò che era giusto perché in realtà il club in cui mi avrebbero mandato il deportivo non mi voleva per fortuna sono riuscito ad arrivare a Mallorca la città ti ha accolto bene? quella è stata un'esperienza molto positiva non solo per ciò che riguarda il calcio mi ricordo un'ascesa scherzosa in un supermercato della città in cui una cassiera mi disse ehi Samuel sei arrivato? Come stai? Bene? e io ho sempre adorato questo atteggiamento spontaneo l'esperienza al Mallorca è quella che ha definitivamente fatto decollare la mia carriera professionale infatti da lì sei volato a Barcellona ci ha molto colpito la tua dichiarazione che fece scalpore correrò come un nero per poter guadagnare come un bianco che messaggio intendevi lanciare? io sono sempre stato molto ironico su tutto anche sospetti legati alla mia provenienza e identità quando dissi quella frase volevo esternare un pensiero comune che la gente non esprime nella società perché non politically correct avevo l'opportunità di dimostrare che nonostante fosse africano in condizioni di uguaglianza avrei potuto essere uno dei migliori e così fu anche se non mancarono episodi negativi infatti purtroppo nel corso della stagione 2006 durante la partita a Saragossa a Barcellona hai ricevuto lulati e i cori razzisti la tua reazione fece scalpore ma mandò dei messaggi importanti con la tua reazione cosa hai voluto dire? nella conferenza stampa post partita ho detto che ciò che era accaduto non aveva nulla a che vedere con il calcio e con lo sport in generale non è tollerabile che un giocatore debba subire quegli attacchi dai tifosi mi sono sentito colpito nella mia dignità ho chiesto all'allenatore di sostituirmi ma grazie all'intervento dell'arbitro, dei miei compagni e degli avversari ho cambiato idea ho preso quella decisione perché i tifosi avversari mi attaccavano solo per il colore della pelle ma ho realizzato che se avesse abbandonato il campo gliel'avrei data vinta dopo quell'episodio sei diventato uno dei giocatori più famosi del mondo tanto che in molti ti hanno soprannominato il signore del calcio ti riconosci in questa definizione? io non mi vedrò mai così mi vedo e vedrò sempre come un ragazzo che sognava di diventare un calciatore e che ha lavorato duramente e con umiltà per realizzare il suo sogno Dio ha voluto che avessi tanta fortuna nella vita tanto che oggi quando mi guardo indietro dico ho una carriera bellissima e mi sento un privilegiato per questo l'umiltà è la chiave di tutto ho avuto in molti successi però il sogno continua a essere quello del ragazzo che è andato via dal proprio paese con la voglia di diventare un giocatore di calcio che sognava che i suoi genitori lo potessero vedere in televisione da quell'episodio che purtroppo non è stato l'ultimo ho imparato molto da allora partecipo stabilmente a tutte le iniziative legate alla lotta alle discriminazioni penso che solo quando il nostro mondo sarà libero da questi spregevoli atti potremo considerarci un grande sport adesso da giocatore affermato quale legame hai con la tua terra Natia? il cameron è parte di me è un paese complesso che vive forti emergenze sociali e in cui specialmente i bambini hanno molto bisogno di sostegno ai sogni che come spesso accade in quella parte del mondo mi ritengo fortunato ad essere nato lì se non fossi nato in quel paese meraviglioso non avrei potuto conoscere tutte queste cose belle della vita anche quelle cose che sono state dure da cui però sono riuscito a trarre il meglio sono camerunense e quando nasci in un paese in cui mangiare è un lusso andare in ospedale è un lusso capisci veramente, velocemente, molte cose e difficilmente ti scordi da dove sei venuto provo con tutto me stesso con la voglia e con l'aiuto di tutti a portare un sorriso che di solito è gratis però lì sembra costi molto da sempre sono impegnato a restituire al mio paese almeno una parte di tutto quello che mi ha dato In Italia hai realizzato alcuni dei tuoi più grandi successi professionali ma hai anche avuto problemi di discriminazione che legame hai con il nostro paese? Ringrazierò sempre l'Italia per quello che mi ha dato professionalmente e umanamente anche se non tutti sono stati in grado di accettarmi allo stesso modo quando sono stato tesserato con l'Inter mi raccontarono che gli italiani erano abbastanza razzisti in special modo con la gente di colore ho ricevuto diversi cori discriminanti in particolare da alcune tifoserie e una volta ho avuto uno spiacevole incontro con dei tifosi del Milan fuori da un locale ma alla luce della mia esperienza posso dire che la maggior parte dei tifosi e degli appassionati di calcio mi hanno amato e io ho ricambiato il loro affetto il razzismo è un male che colpisce chi è ignorante e quello che possiamo fare è demonizzare chi si comporta così evitando di generalizzare penso che la prevenzione sia la miglior arma imparare ad accettare le differenze come ricchezza è la cosa più importante sono orgoglioso di difendere questo paese che sento in parte come mio perché alzando la Champions con l'Inter mi sono sentito parte di un successo anche italiano quando abbiamo vinto tutti quei titoli ad essere contenti non dovevano essere solo i tifosi dell'Inter ma anche tutti gli italiani perché è il calcio italiano che ha vinto ed è qualcosa di cui andare molto fieri io sinceramente sono sempre stato molto orgoglioso di giocare in questo campionato e l'affetto che gli italiani mi hanno sempre riservato per me è la riprova più importante e l'affetto che gli italiani mi hanno sempre riservato per me e l'affetto che gli italiani mi hanno sempre riservato per me